Dopo aver scaldato l'insaldatore, a questo punto stanniamo questo filo, che tratta di un multifilare in rame. Se l'insaldatore si scalda, si aggiunge lo stagno. Perché lo stagno non penetra il filo, scaturando tutto lo spazio che è presente tra i vari piccoli fili che compongono il filo più grande. L'insaldatore in questo momento non è molto caldo. Siamo a aggiungere il stagno. E questo è il risultato finale. Il filo è completamente ricoperto di stagno. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.